Sicuramente il mio lavoro è molto legato alla geografia del territorio ed è proprio per questo in realtà il viaggio è sempre stato alla base dei miei interessi ed è diventato parte fondamentale del mio lavoro. Quindi confrontarsi con altre culture soprattutto e anche dialogare per capire. Quello a cui mi sono sempre ispirata di più negli anni è stato provare ad avere un doppio punto di vista. Quindi sì guardare un modello nordico, quindi scandinavo principalmente ed è per questo che ho studiato in Svezia e ci sono tornata nel corso degli anni varie volte. Cercare di capire come loro lavorano con il pubblico, con il sociale. Questo aspetto per me è sempre stato veramente fondamentale con la sostenibilità da vari punti di vista. E poi confrontarlo invece a un modello che manca totalmente di queste strutture di sopporto. Quindi varie realtà diciamo, alcune più specifiche, altre più generiche. Però le strategie che le persone usavano per riuscire a uscire dai problemi anche del quotidiano, molto legato al quotidiano. Ho sempre cercato di investire le mie energie e confrontarmi con diversi paesi, però sempre attraverso uno sguardo artistico anche, cioè attraverso la metodologia di lavoro. E quindi per questo ad esempio ho fatto domanda per un programma americano in Nepal. Quindi riuscire a essere sempre anche un po' guidata nella lettura da diversi occhi, quindi da quello della gente, del posto, ma anche da chi studiava un certo tipo di modello. E quindi sì, mi sono sempre ammossa molto, ho sempre cercato di lavorare site specifico, come si definisce anche oggi, context specific. Quindi non solo con un luogo, ma anche con un certo tipo di contesto. Però senza mai lasciare troppo l'Italia, nel senso che alla fine l'Italia è il mio paese e credo che ci siano anche un sacco di spunti interessanti. Ed è anche un po' per quello che alla fine vivo in una città di base come Venezia, che è il luogo delle contraddizioni per eccellenza. Quando ho vinto il programma di residenza della Bevilacola Masa avevo già un progetto grosso in cantiere ed è anche stato il motivo per cui ho applicato alla residenza. Era un progetto molto ambizioso per me e avevo bisogno anche del supporto della fondazione e dell'istituzione, perché aveva tante ricerche e tanti aspetti plurimi in un unico lavoro, che voleva essere innanzitutto la collaborazione con uno scienziato, Hans Grassmann, scienziato fisico-ingegnere, che aveva progettato questa combinazione di specchi, riprendendo la legge di Archimede della rifrazione e rifrazione solare, per creare energia solare, quindi energia pulita. Quindi un nuovo modello di energia applicato a una tradizione locale, quindi la lavorazione del vetro, perché stavamo parlando di semplicissimi specchi riflettenti. A Venezia tra il 6800 e l'800 c'è stata questa forte lavorazione dell'incisione su specchio, una tradizione che adesso sta venendo lentamente, insomma lasciata morire a sé, per dare invece molta più forza, molta più attenzione alla tecnica della soffiatura, perché? Perché è molto spettacolare. Quindi ho voluto unire differenti problematiche, quella del turismo di massa che affligge una città piccola e problematica come Venezia, quella della tradizione locale, di un'incisione, di una tecnica che sta scomparendo, ma anche un aspetto proprio geografico ambientale, quindi era tutto collegato. E quindi da lì l'idea principale era lavorare con Mastri Muranesi, creare un'installazione in collaborazione con uno scienziato che mi aveva invitato, quindi anche questo aspetto era molto interessante, il fatto che è uno scienziato che invita un artista e non viceversa, e produrre questa installazione funzionante che io volevo dedicare a Murano, a un'industria di Murano, in cambio appunto di un aiuto nella produzione, quindi basata completamente sullo scambio. Da lì ci sono state una serie di vicissitudini e burocrazie, lentezze infinite da parte dell'amministrazione locale, il progetto piaceva come idea, ma non piaceva ovviamente in termini di costi, economie, e quindi insomma piano piano è andato a scomparire, fin tanto che poi il progetto è stato effettivamente finanziato da un ente no profit svedese, e quindi anche in questo senso per me dichiarare il fallimento del mio progetto, che voleva essere per Venezia, e invece è finito in un altro paese del mondo, ma che comunque per me ha creato determinate relazioni con il territorio, con le persone e anche ho capito un certo senso di fare imprenditoria nel piccolo, dal basso, quali sono le criticità. E poi da lì sono nati una serie di lavori, dato che la ricerca è durata circa due anni e mezzo, per supportare, per spiegare, per presentare tutto il progetto. Quindi è nato un erbario, è nata una piccola installazione, fatti di vetri di scarto da Murano, che poi si è tradotta piano piano in un altro progetto, che si chiama Bricks Serving the Unpredictable, che ho sviluppato poi l'anno seguente. Poi sono nati appunto dei testi, scritti, letti con biologi locali, un testo che legava arte e scienza, che riprendeva una teoria dell'MIT, sono nati vari materiali, e poi in conclusione un video, sono appunto avvalsa dell'aiuto della videomaker Sara Tirelli, e insieme appunto abbiamo cercato di leggere, unire le varie parti di sviluppo del lavoro. Il video è stato presentato poi alla Biennale di Istanbul. Beh, di sicuro lavorare con persone diverse ti aiuta a non fossilizzarti solo nel mondo dell'arte, che per me è fondamentale. cioè riuscire sempre ad ancorarlo alla sfera del reale, no? Il fatto che non siamo solo un mondo di pochi divisi dal resto che fanno arte, ma l'arte è qualcosa che ti aiuta a capire il mondo in cui vivi, no? Quindi relazionandolo a scienziati, geografi, scrittori, attivisti, antropologi, politici, e allora è lì che puoi riuscire a far emergere delle criticità che possono essere lette attraverso lo strumento che la... perché alla fine l'arte è uno strumento, non è niente... è uno strumento che ti aiuta a capire determinate cose, a far luce e anche a imparare, o a vedere cose che magari non avresti visto, ma così come lo è per gli artisti confrontarsi con le altre discipline, no? Tutto parte dalla ricerca in un progetto, quindi c'è una prima fase di studio e di confronto, se si lavora con un'altra persona o più persone, e poi si cerca di capire qual è il metodo migliore per tradurre quello che si vuole dire. Il medium arriva dopo. Prima per me c'è una fase di studio e di ricerca, ed è quello in cui meno mi sento riconosciuta in Italia, ed è il motivo per cui vado spesso all'estero alla ricerca anche di fondi, di finanziamenti, no? Perché poi alla fine si pensa sempre che l'opera sia il prodotto finale, mentre invece per me è anche molto importante il processo. Se manca quella parte, l'opera non la sento mia, non la sento... non mi viene come vorrei che venisse. Quindi strutturare quella parte di studio per me è fondamentale. E poi sento che il resto viene molto naturale, no? Quindi l'uso del libro d'artista, piuttosto che della performance, piuttosto che l'installazione, o a volte il video. L'unica cosa che posso fare quando non sono sopportata da borse è fare altri lavori che tento di avvicinare sempre di più al mondo dell'arte, anche per imparare io delle cose. Quindi, ad esempio, quest'anno l'esperienza di assistenza John Jonas mi ha dato molto. In altri casi è appunto lavorare all'installazione di altre opere per altri artisti. Oppure, ad esempio, a me piace molto anche proprio fare la guida, perché è un modo per me per studiare, per ricercare, poi per dare un ritorno secondo una mia prospettiva. quindi sono guide a volte anche molto secondo il mio punto di vista, però insomma la gente lo sa.